Salve carissimi amici, tuttubi, sono Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo di The Dawn Rosa Library, volume 16, paperino, zepaperone, paperino, una copertina dal forte impatto, molto strana, che cos'è questo marchingegno, perché c'è quello che sembra essere un drago, che cos'è, cosa sta succedendo, parliamo insieme all'interno di questo bel sedicesimo numero che contiene solo tre storie, solo tre storie perché due sono particolarmente lunghe, in volumetti da 114 pagine a 8 ore 90, vi ricordo sempre che questo qui è foliazione e prezzo di questa edizione non c'è spazio per molte altre storie. Ho notato un lieve calo nella qualità della traduzione, non so se effettivamente a un certo punto molte storie le ho lette sempre molto volentieri, mi è sempre piaciuto leggerle, qui in questo caso ho notato qualche incertezza in qua e là, qualche frase che probabilmente sono state tradotte in maniera così letterale dall'americano in italiano che hanno poco senso, ecco, si è fatto un lavoro di traduzione più che di adattamento italiano, che da un lato è una cosa che tutti dicono di volere, dall'altro lato certe frasi non hanno senso, quindi... o comunque suonano male, cioè ci sta fare una traduzione e un adattamento per renderlo coerente all'interno della nostra lingua in realtà semplicemente per far... che non vuol dire storpiare, vuol dire semplicemente renderlo coerente con la nostra sintassi, col nostro modo di parlare, piuttosto che mantenere una forma così pura dell'americano che stona un pochettino a sentirlo in italiano. Dicevo che al suo interno ci sono tre storie, come al solito precedute da un lungo apparato redazionale con delle analisi da parte dello stesso Don Rosa, che per l'appunto ci introduce la vicenda e come è nata, cosa c'è dietro e cosa non c'è dietro, la storia d'apertura è il segreto dell'olandese, che a quanto pare era ed è uno dei più grandi misteri dei tesori, uno dei più grandi tesori americani, questo mistero dell'olandese che tutti sanno essere tedesco, perché l'olandese non è olandese ma è tedesco, una cosa molto molto strana. Zepo Perone aveva raccontato come era entrato a contatto con la mappa in una storia precedente che dovrebbe essere il vigilante di Pizz and Bluff, quindi quella storia è un prequel di questa, ma a sua volta è uno spin-off della saga di Zepo Perone, quindi questa storia è un sequel di uno spin-off della saga di Zepo Perone, qualcosa che ti fa veramente esplodere il cervello. La storia è una classica ricerca di un tesoro da parte di Zepo Perone, quindi hanno gli indizi, si recano in Arizona dove dovranno seguire la mappa che hanno trovato per poter scoprire dove si trova questo favoloso tesoro, questo segreto dell'olandese, per l'appunto un tesoro nascosto da qualche parte, con tutta una serie di misteri, di intrighi, di personaggi che interverranno per cercare di fermarlo, per prendere il tesoro a loro volta, con una gag comedy fornita da Paperino legato al fatto che lui è in possesso di una colla solvente molto particolare alla quale si attacca qualunque cosa e non è più in grado di liberarsi. Ecco, è un po' l'espedente che crea della comicità, ma crea anche situazioni dalla quale Don Rosa tende a sbrogliare nodi narrativi in una qualche maniera grazie a questa colla super appiccicosa. Interessante, è una storia che ho già avuto modo di leggere più volte, sia nel volume di Paper Dinastia, sia nel volume della serie Oro di Repubblica dedicata a The Paperone, credo che ci fosse anche lì, quindi è una storia che ho letto più e più volte, mi è sempre piaciuta, anche se ho sempre preferito altre storie dedicate alla saga, anche perché questa non fa parte del ciclo della saga, in senso stretto, vista la sanatura di sequel di uno spin-off. Dovrebbe essere comunque il capitolo 8C, credo, no, è prima, 6C, qualcosa del genere, però sempre molto intrigante. La storia successiva è The Paperone, Fuga dalla Valle Proibita. Vi faccio vedere giusto il redazionale interno più che la prima pagina perché c'è la conclusione della storia dell'olandese e non ha senso mostrarvi la fine perché c'è comunque un elemento abbastanza spoilerino. Fuga dalla Valle Proibita è una storia che, come si può vedere, porterà i nostri Paperino, The Paperone e Quicocca, partiranno in realtà con l'obiettivo di comprare economicamente uno strano tè alla noce moscata che The Paperone non riesce più a trovare, quindi si reca in questa zona per trovarlo. Qui Paperino e Quicocca scopriranno di essere in realtà molto vicini a una tribù indigena e ad una valle proibita dove c'erano finiti anni e anni prima e dove erano presenti i dinosauri perché è sempre bello far vedere i dinosauri. Una storia che quindi si prefigura quasi una sorta di Jurassic Park 2.0 con questi dinosauri che vivono liberi in questa valle, Paperino che per qualche motivo viene incastrato e finisce in questa valle accudito dal dinosauro che vi ho appena fatto vedere e Paperone e Quicocca che cercheranno di salvarlo scoprendo tutta una serie di dinosauri e mostri incredibili che si trovano all'interno di questa valle. E a suo modo è sicuramente un sequel di diverse storie barksiane, visto sicuramente la storia dove compare per la prima volta questa valle proibita. C'è un riferimento al fatto che The Paperone vorrebbe avere un dinosauro per il suo zoo, altro riferimento alla storia dell'unicorno di Karl Barks che ecco non è un sequel della storia dell'unicorno però a suo modo si ricollega ed è quindi interessante, sono questi folli dettagli degni di nota che lo stesso Dorroso ci fornisce e che per l'appunto ci danno un'indicazione di quali storie sono state usate e con quale criterio sono state usate quelle storie nello specifico. L'ultima storia di questo volume è piuttosto particolare, è Paperino e la ricerca del Kalevala. La ricerca del Kalevala che in realtà è un mito finnico che per l'appunto riguarda uno stregone, riguarda questo strumento che si dovrebbe chiamare Sampo che dovrebbe essere in grado di far fuoriuscire in maniera illimitata sale, grano, monete d'oro. Paperone viene a scoprire questa leggenda in una qualche maniera, vi faccio vedere quanto materiale di approfondimento ci fornisce lo stesso Dorrosa, sono veramente tante tante pagine e quindi è molto interessante. Non vi ho fatto vedere la pagina alla sinistra perché contiene quello che nei fatti è un epilogo alla storia e poi comincia per l'appunto la storia in senso stretto dove potete vedere c'è un mago con una spada mistica, c'è una strega, ci sono i nostri che hanno trovato il Sampo e quindi Paperone viene a conoscenza di questo mito. Partirà in Finlandia alla ricerca del Sampo per produrre infinite ricchezze e qui ci saranno diversi incontri con queste figure mistiche, avremo la reincarnazione nei personaggi contemporanei di queste figure mistiche, quindi avremo anche dei nemici particolari. È una storia molto articolata, molto complessa, che si può limitare ad un Paperone va alla ricerca di un tesoro mitologico, ma a livello di intreccio narrativo, di sviluppo, di sottotrame, di ricerche che vengono fatti, da qui anche il titolo sia italiano che forse più quello inglese, cioè la ricerca del Kalevala funziona, il titolo in inglese è The Cast of Fort Kalevala e il The Cast non è solo la ricerca, che è quasi più una missione, una missione di ricerca, qualcosa di un pochettino più alla ricerca della valle perduta, no no, è The Cast, è quasi più una missione da videogioco se vogliamo, come l'ho sempre vista. E quindi molto intrigante, con tanti sviluppi, forse è la storia che ho preferito di più all'interno di questo volume. Ci viene mostrata nella parte finale della storia, quelli che erano le reintroduzioni dei vari capitoli, perché nella versione, credo finlandese, è uscita la storia tutta completa in oltre 30 pagine. In diverse parti del mondo è stata suddivisa in capitoli, ogni capitolo aveva la sua breve reintroduzione. Che cos'altro c'era? Sì, come vi ho detto, prima della storia è presente l'epilogo della storia, che non è uscito... cioè la storia in realtà ha la sua conclusione. È quasi più un PS, un po' scrittum, una sorta di immagine dopo i titoli di coda di un film Marvel, se vogliamo vederla così. Non ve l'ho mostrata, per non farvi spoiler, mi è dispiaciuto che sia stata inserita prima della storia stessa. Questo perché effettivamente non dico che mi hai rovinato un colpo di scena, però sì, mi hai anticipato un colpo di scena in questo modo, cosa che molto probabilmente nella versione americana era inserita dopo la storia, nella versione americana della Don Rosa Library. L'ho trovata fastidiosa. Capisco il voler fare comunità, cioè come tutte le versioni italiane di tutte le Omni e fare un'introduzione che avvenga prima della storia, nella mente degli americani, questa non è un'introduzione, è una postfazione, è un leggi una storia, vuoi degli approfondimenti, ti leggi l'apparato redazionale, che funziona secondo me molto meglio di come facciamo noi italiani. Cioè, l'introduzione non deve avere spoiler, non deve avere spunti di riflessione, che ci venga mostrato il finale, i finali alternativi, la lavorazione che c'è stata dietro ha anche molto più senso leggerla una volta che si è letta la storia, quindi si può capire certi dettagli. E in questo caso qui, in realtà, bene o male, Don Rosa non è che fa spoiler all'interno delle sue introduzioni, che in realtà sono, come vi ho detto, post-fazioni, però in casi come questa si poteva evitare spostando quell'immagine in una parte successiva. Avrei preferito di gran lunga, mi venissero mostrate in inglese le immagini di raccordo, che sì, sono comunque spoiler, ma forse lo sono meno, soprattutto guardi l'immagine, sai più o meno cosa ti aspetti, però se non leggi i testi, che sono comunque in inglese, quindi ti devi anche mettere lì un pochettino a tradurre, ce la si fa, però se non lo leggi, ok? Quella lì invece era proprio una pagina, anche tradotta in italiano, proprio in virtù del fatto che è un epilogo alla storia stessa. Però va bene così. La parte finale invece ci mostra la solita cover gallery di storie varie ed eventuali, per lo più storie barxiane, ma anche qualche storia di Don Rosa, la quale viene fatta una... una copertina dedicata. Non ho capito perché si comincia con immagini grandi e poi a un certo punto, forse per storie minori, vuoi capire perché, mi metti una vera e propria carrellata di immagini così piccole che, boh, si fa anche quasi fatica ad apprezzarne la qualità vista le dimensioni ridotte. Non so se all'interno di quello che era l'ottavo volume della Don Rosa Library, quindi è un difetto, è un problema che esiste anche nella versione originale di questa collana, o se è un problema nostrano. Però è davvero un peccato, cioè alla fine visto che sono quattro copertine per pagina, sono dodici pagine in più, che sono tante, sono tante. Però ci volevano, ci volevano probabilmente, per poter apprezzare l'arte di Don Rosa. Però ripeto, non so se è un problema dell'edizione nostrana, e in quel caso è un grave problema, un grave difetto dell'edizione nostrana, o se è un difetto ereditato dalla versione americana, perché in quel caso lo accetto un pochettino di più. Non mi piace comunque, si poteva migliorare l'edizione americana, piuttosto che farla uguale, se invece è un downgrade dell'edizione americana, è un problema, è brutto, è semplicemente brutto. Questo è quanto volevo dire per oggi, qui sotto nello spazio dei commenti aspetto vostre opinioni in merito. Avete letto questo volume della Don Rosa Library? Che cosa ne pensate? Qui da Francesco, il popolo alle mie spalle, dalla soffitta di camera mia non più soffitta è tutto, e noi ci vediamo ad una prossima video-opinione del canale. Ciao!